La politica dei tagli mette a serio rischio la categoria degli infermieri. A tal proposito è chiaro il messaggio lanciato da Laura Biagiotti, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino. Tagliare i costi e abbandonare gli infermieri oggi significa peggiorare la qualità della vita delle persone. Mettere a rischio la vita delle persone potrebbe essere qualcosa che fa paura, ma in realtà se ci pensiamo ridurre ad esempio il personale infermieristico e anche tutto il personale sanitario incide sicuramente su quante prestazioni possiamo fare in ambito sanitario. Sono sempre perplessa tutte le volte che arriviamo nel periodo estivo e andiamo a ridurre ad esempio con la chiusura dei reparti e riduciamo proprio le attività. Questo perché? Perché non abbiamo il personale infermieristico in questo caso. Perché? Perché non abbiamo il personale integrativo e significa che siccome dobbiamo assicurare agli infermieri il giusto riposo e le giuste ferie estive che sono previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per poter sopperire a questo nei periodi estivi riduciamo le attività. E questo non è sicuramente un buon segno parlando anche da cittadini perché ridurre le attività sanitarie in una provincia come la nostra che è fonte di turismo credo che non sia sicuramente l'azione migliorativa. L'infermiere è una figura professionale che si è evoluta nel corso degli anni continua ad essere fondamentale per la nostra sanità. È una figura altamente professionalizzante. Ormai abbiamo una specificità clinica dove molti infermieri ormai si può dire che più dell'80% hanno un corso post base di specializzazione universitaria. Quindi possiamo dire che la clinica infermieristica ha sempre più una posizione specifica e idonea in ambito sanitario. Occasione importante per tracciare un bilancio sul lavoro svolto dagli infermieri sul territorio e guardare al futuro con una proposta interessante per il bene della comunità. Abbiamo dei professionisti veramente in gamba, formati, in grado di mandare avanti ambulatori infermieristici, questo ce lo dimostra, in grado di poter sopperire sul territorio, nella rete territoriale, tutte le grandi difficoltà che può avere un cittadino. Ad esempio a tutt'oggi è costretto a rivolgersi sempre o al medico di famiglia o fare degli accessi inappropriati nel pronto soccorso. Io non me la prendo col cittadino, ma penso che un cittadino non sa dove deve rivolgersi perché se no nessuno andrebbe a fare una cosa che sa benissimo a cui andrebbe incontro, una prestazione non idonea o un'attesa di 24 ore in pronto soccorso. Quindi la presenza di un infermiere sul territorio come un infermiere di famiglia, infermiere di comunità, sicuramente andrà a sopperire tutte queste difficoltà che può avere un medico di famiglia in questo momento e di conseguenza dare quelle risposte al cittadino, che sono quelle che attualmente purtroppo sono quelle che dà un singolo infermiere al vicino di casa, invece di darlo al solo vicino di casa che dà il supporto, un aiuto reale perché manca, che venga dato a tutta la cittadinanza della nostra provincia attivando molto velocemente anche queste rete territoriali, integrandole con l'infermiere di famiglia.